sono delle vere nerd si sentono vibrazioni da sfigate nell'aria signor preside, vorremmo partecipare al conforso di bellezza voi, le due ragazze più sfigate della scuola temo che non abbiate alcuna possibilità non è giusto! non è così! cosa ne pensate nel mio look? aspetto i vostri like oh, le mie ragazze! perché tutti pensano che siamo brutte? cos'è successo? vogliamo vincere il concorso, ma non succederà mai! aspettate un attimo, ho un'idea vostra madre è una beauty influencer, sapete? vi trasformerò in bambole volete assomigliare a Barbie? sì, lo voglio! Patty? no, io passo ti sfido ok, ci sto, sorellina con chi iniziamo la trasformazione di bellezza? Patricia? o Bea? Bea? inizio io! ci siamo quasi! siediti tesoro rilassati e preparati a diventare Barbie ma dov'è inizio? si ero? no, lo so dov'è? l'ho visto qui in giro eccolo! questa schiuma fa miracoli rendiamo la tua pelle più pulita il prossimo passo la maschera detergente ne abbiamo davvero bisogno? posso lavarmi ora? sì! finalmente! no, no meglio tamponarsi il viso con un tovagliolo e ora il siero è così viscido la tua pelle te ne sarà grata perché è così appiccicoso? guarda com'è cambiata la tua pelle mi piace! filmiamo un tiktok questa è la mia bellissima figlia dopo il siero un nuovo tiktok tutto internet ha visto questo imbarazzo la bellezza non si aspetta ma mamma! da dove cominciamo? quei brutti brufoli so come fare tutto pronto per l'operazione facciamoli esplodere che brufolo ostinato! ecco il mio fedele aiutante nessun brufolo resterà fantastico! non male! cosa? punti neri? che incubo! sono felice di avere un cerotto speciale pronta? non piantere! il mio naso non è mai stato così pulito prima d'ora lo so! postiamolo su tiktok mamma! passa qua! l'acne? non c'è più! prendiamoci cura delle tue sopracciglia tesoro per prima cosa spazzoliamole e tagliamo i peli in eccesso senza problemi ora una rapida depilazione beh non mi ha fatto nemmeno male ti piacciono le sopracciglia? ne sono ossessionata! ne sono felice! ne sono felice! patricia è il tuo turno! tagliamo le sopracciglia! oh no! non ti farà male! vabbè! ecco! spazzoliamo un po' e ritocchiamo! tesoro! sei così sensibile! le mie sopracciglia sono sempre perfette! ti stai mangiando le unghie! che schifo! alle vostre unghie serve un rifacimento urgente! evviva! e tu? sto bene! dammi la mano! che colore scegliamo? questo andrà bene! adoro queste unghie! grazie mamma! tocca a te! oh la batteria è scarica! ops! bene! torniamo al classico design per le unghie! dammi le tue belle mani! spero che non sia doloroso! una crema per le mani è fondamentale! le mie mani apprezzeranno! credo che questa tonalità sia perfetta per te! fatto! è una cosa da pazzi! sono felice che ti piaccia! un minuto per TikTok! le sue unghie sono fantastiche! molto meglio delle tue! a mia figlia si morde le labbra! non imparerà mai! vediamo! ok! per prima cosa eliminiamo l'eccesso! ci serve un batuffolo di cotone e dell'acqua calda! rende le labbra più morbide! lo zucchero e il miele sono un ottimo scrub fatto in casa! strofina le labbra per rimuovere lo strato secco! e ora il balsamo per le labbra! applichiamolo! lo adoro! non abbiamo finito! copriamo la bocca! diamogli un po' di tempo! sono così immorbide! la mia bella ragazza! oh! dimenticavo TikTok! un delicato promemoria! prendersi cura delle proprie labbra è fondamentale! ehi ragazze! è ora di acconciarsi i capelli! cos'hanno che non va? su! 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 la mamma sceglierà l'acconciatura adatta a voi! no! no! non va bene! splendida! wow! ma sembra un raperonzolo! ora tocca a te Patricia! non credo proprio! non si discute! è l'ora di una bella acconciatura! pettiniamo i tuoi bei capelli! e rendiamoli lisci come la seta! meravigliosi! sei una bomba! e ora? solo un secondo! tieni lo specchio! mamma! sono io! la mia ragazza! stai benissimo, srellina! una sfigata si è davvero trasformata in una bella ragazza! wow! ehi là! il cambiamento è quasi finito! siamo pronte mamma! passiamo al trucco! fondotinta correttore cipria e fardo illuminante ombretti luminosi ed ecco le nuove e migliorate Phoebe e Patricia! e adesso? ora ci occuperemo del guardaroba e dell'umore! cambiatevi! ne sei sicura? ok! vi sceglierò un nuovo vestito in un batter d'occhio! ok! cosa scelgo? no! no! forse! il telefono si è bloccato! fammi uscire! oh Phoebe! è perfetto! il restyling è finito! ma sono loro? le ex sfigate sono vere e proprie bambole ora! e sono favolose! e la reginetta è... Nancy! ne assicuro signor preside! ho cambiato idea! la vera reginetta di bellezza è... Phoebe! grazie! posso fare un selfie con la nuova reginetta? sei la migliore! grazie! è lui! Ben! il ragazzo più carino del college! wow! dov'è la mia borsa del trucco? è un po' impolverata! devo essere irresistibile per conquistarlo a prima vista! confesserò il mio amore! Ben! questo cuore è il simbolo del mio amore? cos'è? uno scherzo? non saremo mai una coppia! è stato crudele! Julie! cos'è successo? il mio cuore è spezzato! vuoi un coniglietto giocattolo? una barretta di cioccolato? allora cosa vuoi? che Ben si innamori di me! so cosa fare! cosa ci fai qui? e anche il mio amore non corrisposto! vieni con me! bella stanza! siediti! iniziamo con il trucco! mi farai bella? oh sì! la prima cosa di cui ho bisogno è l'acqua micellare! mi c'è cosa? struccante! non ne ho mai sentito parlare prima! e come funziona? ti faccio vedere! inumidisci un batuffolo di cotone e togli il trucco! ottimo! e gli occhi! e gli occhi! fatto! una volta terminata la pulizia la pelle ha bisogno di idratazione! che bel cucciolo! sento già che la maschera sta facendo il suo lavoro! dagli 15 minuti a chi sarà? vado io! chi è? un mostro! che c'è? non riesco a vedere bene senza occhiali! nessuno! che strano! oh mia faccia! stai calma! la tua pelle te ne sarà grata! togli la maschera e vedrai! applichiamo il fondotinta! ce l'ho! ecco! ne applicherò molto! ma che tonalità è? abbronzatura californiana! perché? questa non va bene! credo di avere la mia! vediamo se si abbina alla tua carnagione! meraviglioso! hai ragione! è meglio così! applicherò questo fondotinta! ferma! ecco una spugnetta! grazie! è molto più comoda! fratello! le ragazze amano i ragazzi muscolosi! non fa per me! allora iniziamo ad allenarci! va bene! 1, 2, 15, 18, 25! 1, 2! ecco fatto! bonifichiamo i bicipiti! per ora ti osservo! addominali! 1, 2! yuki! sono stanco! ok! cambiamo approccio! fatto! mi sento già più forte! come va? fatto! e ora il contorno! applicalo nei punti giusti per ombreggiarli! e questa è l'area da evidenziare! e questa è l'area da evidenziare! devo andare! dove? non abbiamo finito! orrore puro! calma! ora entra in gioco il pennello! ecco fatto! le sopracciglia sono il prossimo punto all'ordine del giorno! ehi! quelle sono brava a farle! destra e a sinistra! guarda come sono belle! un incubo e mezzo! le tue sopracciglia sono naturalmente belle! devi solo farle risaltare! la tua parte migliore sono gli occhi! una palette di ombre! eyeliner! wow! glitter! e aggiungiamo un po' di fard! sono una superstar! non abbiamo finito! questo è il tuo profilo Insta? ti servono un mucchio di foto fantastiche! facciamo un servizio fotografico! sguardo intelligente? attimo! qualcosa è andato storto! mettiti vicino al muro e fai una foto spettacolare! qualcosa del genere? fantastico! no! non vieni bene in foto! è inutile! ti serve più coraggio! coraggio? ma dove lo trovo? lo so! dove stai andando? dobbiamo cambiare stile! dobbiamo cambiare stile! what? prova lo stile Barbie! no! oh sì! oh no! sì 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 sì! andiamo! i miei capelli! è andato tutto storto! io li odio! sono di nuovo me stessa! dovremmo iniziare il restyling con i capelli? voglio che siano eleganti ma spettacolari! gli accessori appariscenti sono ciò che ci serve! io ho degli orecchini! ora sono pronta! devo andare al college! ricorda che sei bellissima! ecco le ragazze! chiedi a Julie di uscire! ma come faccio? ho un'idea! scrivile una lettera! pensi che funzionerà? ma certo! ora faccio un aereo! e raggiunge l'obiettivo! che cos'è? oh no! ho mancato il bersaglio! tenete qui ragazze! vediamo! qualcuno è innamorato della signora K! che emozione! vola! grazie ragazze! quando vuole! qual è la sua risposta? ha corretto gli errori e mi ha dato una F! non è divertente! andiamo! il tuo guardaroba ha bisogno di qualcosa di nuovo! un vestito! provalo! no! è troppo vintage! una gonna! wow! va bene! troppo grintosa! no! cosa ne pensi di questo? è perfetto! grazie! non avrei mai potuto farcela senza di te! ho una cosa! sai cosa piace a Julie? onestamente non lo so! devi saperlo! vedi? conosco i gusti della mia ragazza! hai preso le cose sul serio! so come ottenere informazioni su Julie! a che ti serve il piccone? tieni! entrerò nel suo armadietto! sarà utile! facci piano! potrebbe tornare prima che tu te ne accorga! ho una cotta per un altro! non ho alcuna possibilità! cosa stai facendo? ho da fare! fermo! tutto per niente! ma sono innocente! è un malinteso! risparmialo per il giudice! che carina! wow! ehi! vuoi essere la mia ragazza? va bene! per questa volta ti diamo un po' di tregua! ti ringrazio Ben! ma... no! troppo tardi! ciao! c'è qualcun altro che mi aspetta! ehi Yugi! Julie! sai come mi chiamo? chi è? ehi! ho dei fan! non importa! sei la mia unica e sola cotta! ce l'abbiamo fatta! abbiamo un bel po' di lavoro da fare! ma possiamo farcela! iniziamo il restyling! bene! missi secchiona! facci vedere che sai fare! posso farmi le ciglia! è molto peggio di quanto pensassi! basta Mary! ora ti mostro come salvare la situazione! si hai sbavato la palpebra con il mascara! applicane ancora un po' nell'angolo interno! così io otterrei uno smokey eye! aggiungiamo l'eyeliner e le ciglia! wow! christy non sembra più una secchiona! ora facciamo i capelli! un look bagnato sarà il più facile da realizzare! un sacco di gel per capelli! aggiungi una riga e spazzola i capelli all'indietro! lascia due ciocche sottili sul davanti! ecco fatto christy! sei pronta a conquistare i cuori del club di matematica! in bocca al lupo! pensi a quello che penso io! è ora che anche noi ci trasformiamo! sai cosa ci manca? accendere le nostre luci a led! ehi chad! che cos'è? il concorso per la migliore sirena? è la mia occasione per attirare la sua attenzione! gemelle aiutatemi a prepararmi per il concorso delle sirene! assolutamente! ecco a te! no! metti la calzamaglia in testa! la rete è uno stencil perfetto per il trucco da sirena! ora toglila! e voilà! il modello a squame è completo! sono più carina di un pesce rosso! girati! ti faccio l'eyeliner! grazie ragazze! ora attacchiamo qualche strasse! sei il nostro tesoro dell'oceano! ciocche morbide! e aggiungiamo gli strasse! così brillerai come una stella! buona fortuna per il concorso sirena! aspetta! hai dimenticato la coda! ora vai a vincere! wow! grazie gemelle! e la vincitrice del concorso di miglior sirena è... christy! ecco la tua corona! fate un applauso! brava! congratulazioni! rinfrescati sirena! oh no! è il mio trucco! allora è questa la sirena migliore? a me sembra più una strega del mare! mi dispiace! ci riprendiamo la corona! ops! ragazzi! volete sapere qual è il segreto per un trucco occhi semplice? avete bisogno di una palette luminosa! applica un po' di ombretto sulla punta delle dita! sfumalo sulla palpebra uno alla volta! guarda il mio trucco arcobaleno! semplice e facile! Mary, guarda questi adesivi! ho già il mio impeccabile trucco arcobaleno! come vuoi! io ti mostrerò un semplice trucco! prendi un adesivo arcobaleno e attaccalo direttamente sulla palpebra! più adesivi ci sono, meglio è... il mio look estivo è davvero accattivante! ciao! christy ha chiesto di nuovo di uscire! è il vero amore! ecco che arriva! ma dov'è christy? beh, aspettiamo! ciao ragazze! non posso uscire! sono balata! è solo raffreddore! no, non sarà facile! ehi! ho pensato a una cosa! christy! ferma! posso iniziare a creare il mio capolavoro? mi hai dipinta? ti sostituirò all'appuntamento! buona fortuna! sono un artista eccezionale! oh! guarda! un selfie! chubb non ne aveva idea! ragazze! ho un'idea! facciamo un trucco colorato! chiudete gli occhi e prendete la vostra tonalità! io ho il blu! e io ho il verde il mio preferito! e io ho il rosso! cosa posso fare? beh, iniziamo il restyling! io voglio fare dei petali verdi e i fiori primaverili! le margherite stanno sbocciando proprio sul mio viso! Mary fa i fiori! Christy fa il cuoto! cosa potrei inventarmi? userò un cucchiaio! sarò un pirata per un po'! ma un cucchiaio ti aiuta a fare un contorno occhi uniforme! sfuma il bordo! bello! oh! non male! e io aggiungerò dei brillantini! delicate foglie verdi sul mio zigomo! il mio look è infuocato! palette di colori blu e gocce di pioggia! il mio truppo è pronto! ma abbiamo dimenticato di cambiarci! blu rosso verde oh! tanto mi vesto di verde! ci mancano gli accessori per la testa! wow! ma io non ho niente! non preoccuparti! fidati della nostra acconciatura! gel per catulli e un rocchetto! acconcia le ciocchi sottili in onde intorno al viso! e il resto dei capelli va in una coda di cavallo elegante sul retro! wow! ma sono stupenda! ragazzi! quale elemento del trucco vi piace di più? Mary è la terra? Claire è l'acqua? oh! Christie è il fuoco! scrivete le risposte qui sotto! vai! wow! ciao! vuoi conoscere il nostro segreto per avere sopracciglia perfette? ti diremo quali prodotti usiamo! matita per sopracciglia! oh sì! non è alla portata di tutti! e il mio gel per sopracciglia preferito! vale ogni centesimo! e questo ombretto! e la cera! e un rocchetto! e il mascara! gemelle! quanti soldi spendete per le vostre sopracciglia? ecco i miei prodotti preferiti! una colla stick e una normale spazzolina! ma che ci fai con quello? incollare le sopracciglia sulla fronte? che mille d'età! ora vi mostro quanto è facile! spalma la colla su un sopracciglio! e spennellalo! voilà! colla per sopracciglia! fammi provare! no! della me! buona fortuna ragazzi! santo guacamole! mi ha chiesto di uscire! mi serve un vestito! è una conciatura! è il trucco! calma! che succede? chado mi ha chiesto di uscire! oh! ti aiuteremo a prepararti! iniziamo con il fondotinta! applichalo sul viso! ragazzi! secondo voi che tipo di outfit abbiamo pensato per Christy questa volta? scrivete la risposta qui sotto! che succede? sono allergica al fondotinta! non posso andare a un appuntamento con Chata così! freno d'emergenza Claire! stai bene? idea! trasformeremo i tuoi inconvenienti in caratteristiche speciali! ti renderemo terribilmente bella! occhi fumosi! aggiungiamo qualche ruolo! e un po' di pallore! e la firma d'autore! ora sei uno zombie! sono in debito con voi ragazze! ciao! oh no! è uno zombie! dobbiamo aiutare Christy! la vincitrice per il miglior trucco è Christy! quindi è un concorso per zombie! ecco il tuo premio! oh! oh! congratulazioni Christy! sei spaventosamente bella! questa è per te! grazie gemelle! ora ti mostriamo alcuni trucchi estivi semplici e veloci! un rossetto e la pellicola di plastica è tutto ciò che ti serve! e io avrò un bel fiore! basta applicare la vernice per il viso su un fiore e metterlo all'angolo della palpebra! che bel disegno! il trucco floreale è fatto! il mio look è così estivo! mmm! posso farlo in modo molto più semplice! bacia la pellicola di plastica con il rossetto e trasferisci il bacio sulla palpebra! ripeti sull'altro lato! questo trucco è perfetto per i baci! il mio trucco è migliore! no! il mio lo è! no! il mio! lascia che sia il pubblico a giudicare! ragazzi! quali trucco vi piace di più? i baci? o i fiori? ehi follower! sto per svelarvi il segreto dei ricci perfetti! guardate queste onde morbide! metti mi piace e iscriviti! ti aiuteremo a diventare ancora più carina! farò anch'io i ricci! con i miei bigodini di carta ecologica! no! usiamo la piastra per capelli! no! non voglio bruciarli! vediamo cosa possiamo fare! ecco un'idea! prendi un calzino! preferibilmente uno pulito! scherzo! è lavato! mettilo sulla testa! e avvolgi delle ciocche di capelli intorno! vissa gli elastici! e lascia riposare per circa un'ora! il tempo è scaduto! ehi christy! svegliati dormigliona! i tuoi ricci ti stanno aspettando! i miei riccioli sono fantastici! sono una dea dei ricci! dai e basta! siamo state fantastiche! i miei riccioli sono fantastici! i miei riccioli sono fantastici!